A Caracas, paese felice e civile, le corride non le prendono molto sul serio. E anche se la plaza de Toros è gremita, nell'arena invece di toreare, il toreador e la sua quadriglia giocano a baseball. È un modo come un altro per passare il tempo in attesa che finalmente arrivi il toro. Eccolo, un po' in ritardo ma animato da fiere intenzioni. Non ha nessuna voglia di giocare, ha piuttosto l'aria di un toro seccato che non vede l'ora di tornarsene a casa. E il toreador è di cuore così tenero che invece di matarlo, come vorrebbe la folla, tenta di domarlo. Con scarsi risultati, ma perlomeno senza spargimento di sangue.